I ask in all honesty, what would I be, when I saw all my dance, what are we, so I thank Emma for the music, for giving it to me. Gloss, anche questa sera, se sta così non fischia. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti da gran signore e abbiamo venito con il chappello per raccogliere le monetine. Del resto quest'anno, come avete visto, la famiglia si è allargata e non solo, vero zia Marisa? Vero bambi, no, bambi in realtà è un'altra cosa quest'anno. E quindi i bambini li dobbiamo mandare a scuola, li dobbiamo far mangiare, per gara si deve fare questi consumi pavolosi, e quindi, offerta libera, Melissa questa sera va da gratis invece, perché per la causa lo fa. Un ringraziamento ovviamente a tutti voi che ci avete supportato questa sera, all'apertura! Dopo? Bravo! Bravo! Sì, per caso, carezze in me, mi sono un cuore, il bagabondo, ti direi che con le donnea, la mia conoscenza è più grande, non mi ricorda, non mi ricorda, non mi sa, io ho proprio un amore, tu metto un piano che verrà, ma girando la mia terra, io mi sono una famiglia, nocce, odio, nocce, guerra, quando ho letto l'amore c'è, com'è bello fa l'amore da Trieste, com'è bello fa l'amore, io so, con tra i tuoi, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, in campagne, in città, com'è bello fa l'amore da Trieste, con tra i tuoi, tanti auguri, 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 Grazie a tutti.